Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4 in italiano. Nello scorso video ho affrontato Trisalamandra forma Shadow Side e abbiamo fatto la conoscenza di tutti quanti i nuovi personaggi, però, beh, conoscenza solo visivamente. Devo anche parlarci per capire bene quello che sta succedendo. Iniziamo un po' con Jibanyan. Yo-Kai Mister... Yoso. Certo, misterioso. Che c'è, forse paura di me, amico? Mi ha... No, assolutamente. Perché? Sto forse tremendo? Oh, è davvero inquietante. Jibanyan sembra davvero spaventato. Ma cosa sta succedendo qui? Eh, non lo so. Dobbiamo scoprirlo. Sbaglio o non mi ha ancora risposto? Voglio sapere chi sei adesso. Beh, vedi, io e te siamo la stessa persona, immagino. L'hai già detto? No, voglio la verità. Certo che questi due sono più simili di quanto pensino. E poi qui possiamo anche sederci per far passare il tempo. Ma non intendo far passare il tempo ora, anche perché non posso farlo passare ora. Non mi hai dà l'opzione. A parte mi pensa che devo andare sotto all'albero, mi sa. Ehi, Lai, è un piacere conoscerti, amico. Bruno, rimane Bruno, ovviamente. Ah, Bruno è canonico, comunque. Perché in America, Yo-Kai Watch 4 ha il fumetto che continua a uscire regolarmente, tramite Wits Media. E alcuni nomi li hanno tradotti. Quindi, Bruno è canonico. Io sono Bruno Skies, la stella del team. Sapevi che siamo tutti dei detective? Siete dei detective? Esatto. Risolviamo casi misteriosi in causa di dagli Yo-Kai. Anche tu ero Yo-Kai Watch, no? Perché non giunisci a noi avanti? Ah, ci penserò su. Non ci penserò neanche un po' veramente. E tu sei... Tri Salamandra. Ah ah ah, vieni qua ragazzo. C'è qualcosa che devo dirti. Non ti sarai per caso dimenticato il mio nome, vero? Io sono Tri, amico. Sì, l'avevo afferrato anche prima. Piacere di conoscerti, Tri. Piacere mio, fratello. Nel caso avessi bisogno, sai a chi rivolgerti. Beh, allora ti chiedo, per quale motivo ci hai attaccati prima? Sbaglio o mi avevi detto che avresti risposto a tutto? Niente, ha finito. Allora, tu sei Summer, giusto? Prima di tutto mi presento. Summer. Va bene il nome Summer. Io sono Summer. Bel nome, vero? L'hai scelto tu dopo tutto. Oh, beh, è piacere di conoscerti. Quindi questo vuol dire che io sono davvero suo padre? Mi immagino già la faccia di Tate quando scoprirà tutto. Chi diavolo è Tate? Si rigira. Ciao, mi presento anche io. Cole. Anche se vorrei chiamarlo Toma, che è il nome suo, ma Cole è bello comunque, dai. Mi chiamo Cole Winters. Piacere di conoscerti. A quanto pare per te era la prima lotta contro uno Shadowside, giusto? Shadowside? Sì, vedi, gli yokai sono come due facce della stessa medaglia. La loro forma normale, detta Light Side, è ben diversa dall'oscura Shadowside. Cosa? Due forme dello stesso yokai? Questa mia è nuova. Beh, deve essere successo qualcosa in tanti anni, perché qui siamo... Beh, ce lo dirà ora Summer. Bene, sembra che tu ti sei calmato un po', papà. Mi fa molto piacere. Oh no, di nuovo con la storia del papà. Beh, cos'è quella faccia? Su, sorridi. Comunque, come ricevo, io sono Summer Adams. Chiamami pure Summer. Certo. D'accordo, quindi Summer... Adams ha detto... Ehi, Link, sbaglio, anche tu fai di cognome Adams. L'ha anche chiamato papà, quindi il cognome è l'ultimo di problemi. Esatto. Infatti mio padre si chiama proprio Link Adams. Cosa? Ma di che diavolo stai parlando? Scusa. Ora vi spiego tutto. Vedete, questo mondo per voi è... Il futuro. Vi trovate i trent'anni del futuro. E quindi la domanda è... Cosa è successo in trent'anni per trasformare Jibanyan, Whispera e tutti gli yokai, da quello che erano ad avere due forme. Una forma light side e una forma shadow side. Qualcosa deve essere successo. Quante scenate. Perché non fate un po' di silenzio? In fondo questa realtà non è poi tanto diverso dalla vostra, giusto? Eh, non interrompete, mi sto parlando io adesso. Mia! Quindi io e quei gattacci siamo la stessa persona? Come sarebbe a dire che la realtà è simile alla vostra? Non ci vedi, forse? Eh, però ci sono davvero tante cose che non capisco ancora. Beh, noi siamo qua per questo, no? Ti spiegheremo tutto, promesso. Sembra un'ottima idea. Forza Summer, spiegami tutto. Ok. Il ragazzo vuole sapere? Bene, permettetemi di farmi avanti allora. Sì, però stai buono. Cara dolce Summer, perché non lasci questo onore al grande Tri? Pensi davvero di essere in grado di spiegare tutto? Ma certo, dirò tutto fin nei minimi dettagli, tranquilla. Bene amico, ora presta attenzione alle mie parole, d'accordo? Sicuro, grazie mille, Tri. Dunque, tutto ebbe inizio a quel giorno. Guarda. Ah, guarda il cielo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Bene Eh In effetti Ah per quanto ancora Sì ma non mi ha fatto leggere Ora come faccio Non ho letto I importanti spunti di lore Cosa era tutta una bugia Mi dispiace amico Mi sono fatto trasportare dal momento Ma ti sembra che Trasportare dal momento sia un po' riduttivo Beh in realtà la parte su salvare il mondo È vera Solo che beh non è stato solo a merito suo Ma di tutti i detective yokai Cosa dite sul serio È una lunga storia ma In effetti è vera Io e i miei amici abbiamo lottato e salvato il mondo Davvero Wow che storia Già in effetti sono tante informazioni da digerire una volta sola Al tempo un pericoloso yokai Il re degli ioni Giunse in questa città Il re degli ioni Wow Ma lo detective yokai lo raggiungemmo e lo sconfiggemmo L'avete sconfitto voi Beh abbiamo dovuto chiedere aiuto al sovrano di yokai world per riuscirci Il sovrano di yokai world potrebbe essere un amico di Emma il grande Tu dici Whisper Io non ci credo a tutto questo Allora il fatto che Emma non sia il sovrano di yokai world Dovrebbe essere stato spiegato in una missione di blaster Perché come Anche nei film Anche nei film Emma c'è del posto a Kaira Però Dovrebbero spiegarlo anche qui perché Non ho capito scusa Pensi che siamo qua a raccontarvi storielle Gnaa Chi? Io? No Stavo solo scherzando prima Quindi mi state dicendo che Summer ha salvato il mondo? Se tutto ciò è vero Allora per quale motivo i trici ha attaccati prima? Per testare la nostra forza? Già in effetti è una domanda plausibile Sembra piuttosto innocuo di solito Più che innocuo fissato con essere un supereroe I supereroi non fanno del male In genere Non tutti Beh Link È giunto il momento che tu sappia tutta la verità su di noi La verità su di voi? È cominciato tutto qualche tempo fa All'inizio delle vacanze estive Ed ecco un'altra storia Mi auguro che questa sia quella vera però Tutto ebbe inizio quel fatidico giorno Ora noi dovremmo giocare con Summer Sì Mamma mia I ragazzi fluttuano Bellissimo Bene sono pronta Whisper che non passa attraverso i muri Nonostante siano yokai Oh Summer Stai uscendo per caso? Sì Noi dell'agenzia investigativa yokai Non andiamo mai in vacanza Capisco Certo che per essere estate Sei molto impegnata vero? È vero Ma gli yokai malvagi Si nascondono dappertutto in città E noi dell'agenzia Siamo gli unici in grado di aiutare gli abitanti Hai ragione Lo yokai watch origine Finora ci ha aiutato non poco Ah che bello rilassarsi in giornate così calde Mia Oh buongiorno Jibanyan Non dormire troppo pigrone Potrei aver bisogno di te i agi Forse avrei dovuto continuare a dormire Già Ah ora che ci penso Dov'è finito Komasan? Giusto Quasi dimenticavo Ho un messaggio per te da parte sua Dovrebbe farsi trovare davanti a casa tua Forza Non facciamolo attendere E in ogni caso il parco è qui vicino Potremmo andarci dopo Che dici? Giusto hai ragione Dai andiamo Quindi Komasan è qui sotto? Oh sono Summer ora E con Summer si può anche saltare Giusto Dunque nostro padre è qua Nostra madre Chissà chi sarà mai nostra madre Ciao mamma Voglio parlare con te Ok sei in giapponese Bravo io parlo italiano Non giapponese Mi dispiace Ci vediamo in un altro momento Dov'è la porta? Non so dove si esce Sakura Gihisa Col di brezza Oh Summer sei tu Aiutami ti prego Tri cosa succede? Io niente di male ovviamente È questo cane che vuole attaccarmi Bau Oh fermati ti prego Non saltarmi addosso Si può sapere cosa stai facendo Tri? Ma quel cane Pensi che potrebbe essere l'amico di Komasan? Beh a pensarci bene Komasan è un leon cane Quindi potrebbe essere In ogni caso Non dovresti avere paura di lui Tri Ehi Io mi stavo solo arrampicando sul muro Per proteggere Summer Cosa? E per quale motivo avresti dovuto farlo? Scusami Beh questo non è rilevante Ora dobbiamo occuparci di questo cane A me Tri Salamandra Non me la racconta giusta Questo era tremendo Ma mi fa impressione Ciao cagnolino Stavi cercando me per caso? Probabilmente vuole che lo seguiamo Come ha fatto anche con Nate Okidoki Dov'è? Eccolo qua Campo di ciliegi Cane coma? Cosa? Lo stavo leggendo il testo lì Dov'è? Ah si è Cioè che giro sta facendo? Guarda Ancora più veloce io Ah Ancora anche lui E lo Mi prendo questo qui oggetto Tegli all'anima Se l'avete fatto cadere voi È un problema vostro Oh Qua c'è il rango D Quindi si può entrare praticamente subito Eccolo Kama-san Bello Accidenti La forma Shadow Side è ancora più bella Kama-san Finalmente ti ho trovato Cosa ci fai qui tutto solo? Oh Sono qui per fare un giro Splash Non te l'ha detto Splash Ah Deve trattarsi di questo cagnolino Sì È passato la casa mia Sai Lui è la mia Anima Una specie di alter ego diciamo Avverti l'odore in giro per la città E ti guido ovunque tu voglia A proposito Kama-san Perché hai chiesto a Summer di incontrarvi? Oh Giusto Volevo mostrarvi questa La slot Kai Quella è Una slot Kai Ho capito Non riesci ad inserire le monete vero? Tranquillo ci penso io Ma credo che fosse più che altro Per noi Per chi mi ha preso Ci riesco benissimo invece Oh davvero? E come mai avresti chiesto aiuto a Summer allora? Il fatto è che non esce alcuna pallina dopo aver inserito la moneta Sul serio? Ah che scocciatura Potrebbe essere un mal funzionamento Al inizio l'ho pensato anch'io Ma poi ho sentito uno strano odore qua Per questo ti ho chiamata Vorrei che dissi un'occhiata con lo Yuki Watch Con lo Yuki Watch ha detto Va bene ci provo subito Quindi ci deve essere qualcosa qui Aha Che Yuki è? Yomagia Quindi non è uno Yuki Eh questo cosa sarebbe? Credo che si tratti di Yomagia È una condizione per cui l'energia Yokai Si concentra tutta in un punto E quindi che si fa? Come ho appena visto Non è possibile notarla Senza sorello Yuki Watch Capisco Ma ora come facciamo a rimuoverla? Fammi controllare Ma certo Usa la funzione rimuovi dell'orologio È così semplice? Premi zaterra verso il basso Per ripulire completamente l'aria contaminata Ah d'accordo allora Mi pare molto strano Cioè fin troppo semplice a dire il vero Ok Ok apparirà anche Il tuo Yuki responsabile Però lui potrebbe anche attaccare Però non ha attaccato Mamma mia Folli insetto Bello Bellissimo il nome Eh Arrabbiatino? E questo chi è? Era lui il responsabile Dello blocco della slot Kai? Ehi voi Non ve l'ha mai insegnato nessuno? Mai disturbare la cicale Ah lui sarebbe La forma Shadow side Di Cicalama Mmm A quanto pare La io magia È una forma negativa Della io energia Non è questo il momento Per mettere A discutere di scienza Scienza Sicuramente Dobbiamo lottare Ci ha fatto sprecare diverse monete La pagherai cara Per questo amico Ben detto Kamasan Avanti furfante Restituisci il malloppo E poi che se ne fa uno Yuki di monete Non lo Bello Certo Light side è un po' Così Però Tutto quanto Yuki Watch 4 O meglio Anche l'anime Molto Cupo Per quanto riguarda Lo stile degli Yuki È fatto apposta In quella maniera Ognuno potevi chiamare Qualcun altro Oggi fa troppo caldo Per lottare Piantala Gibanian Forza A quanto su di te Ehi Fermi Non vorrete mica Lasciarmi indietro Vero? Ecco il miglior Cavaliere Della corte Di Summer Il sole unico Super 3 Oh 3 Mi ero completamente Dimenticata di lui Chissà perché Ad ogni caso Un aiuto in più Non guasta mai E ora All'attacco Gente Ma combatta anche Whisper Wow Lo distruggiamo Lo detoniamo Sta cicala Folli insetto Ora Perché Perché mi odi Ah ok Wow Vitali insetto Ah vitali insetto Allora è la forma Light side Mentre folli insetto È la forma shadow Allora si ci servono Effettivamente 4 yokai Allora Mo combatto un po' Con gli yokai Perché Premi più Per durante Una lotta Premi L Per informazioni Su alleati E R Sui nemici Ok E poi ci sono anche Gli attributi Certo Se comandi Un boss a sinistra Per una pratica Scorciata Io della guida Ok Quindi si blocca Il tempo Poi scelgo Oggetti Ok Questi sono i nemici Hanno tutti quanti Gli stessi punti vita E gli oggetti Nel caso Devo curarmi Li condividiamo Con Nate Va bene No Passo Allora Che bello Lei che mena Con lo scettro Beh in effetti Si è roba Solo scettro Ah con X Lei ha Pure eccellente Ah ok Mamma mia Amici Mi deve chiamarlo Amici Trisalamandra Ma come sono No Ho fatto il tempo A vedere la forma Shadow Sai D'accidenti Era bellissimo Ah Ci sarà modo Comunque di vederlo Rango Anima Ma eh Queste poi dovremmo Anche usarle Più in là Fra poco Penso Comunque Ok Oh Usiamo subito La slot Dai Ben fatto Kamasan Hai ripreso La mia moneta Non l'hai neanche usata Sono felice Di essersi dato l'aiuto Ma non ce l'avrei fatta Senza gli altri Se si è un discorso Commovente Ora posso tornarmela A casa Ciao Oh Gibanian Ehi Summer Forse dovresti chiamare me Al suo posto Se ci sarai Grande Tria A proteggerti Non avrai nulla Di cui preoccuparti Certo Come no Ah Lascialo perdere È una battaglia Persa in partenza Ad ogni modo Tieni Summer È il mio ringraziamento Per avermi salvato Ma Dammi la tua moneta Piuttosto Non quella Della slot Fantastico Kokomasan Grazie mille Ottimo lavoro Summer Perché non proprio Usarei subito Quella moneta Sì Un'ottima idea Forza Proviamo la slot Kai Beh certo Che la provo subito No Ok Tanti oggetti rari Tanti yokai Ecco Salva automaticamente La partita Vediamo un po' Cosa può uscire Però da questa moneta Dead cool Ne varia Non so Come si chiama Hanno tradotto Anche questo Yokai nuovo Che però Dovrebbe avere Una traduzione Ufficiale In inglese Se non sbaglio Non so Se sono tarate Le prime Slottate O meglio La prima moneta È tarata Blu Quindi Ok Anima Punk Spino Punk Spino Punk L'anima Quindi Devo trovare Un modo Di portarlo Alla vita Diciamo Fargli avere Un corpo Ben fatto Un premio Con i fiocchi Insomma Poteva uscire Anche Deadpool Tuttavia Fai attenzione La slot Kai ha un numero Limitato di utilizzi Giornalieri Torna mente Grazie ancora Non c'è di che Summer A proposito Dove sono gli altri Oh hai ragione Mi ero dimenticata Mi stanno aspettando Al parco Un allarmarti Splash Ti indica La via più breve Per arrivarci Basta che non si perda Come prima Che si è affermato Ha già fatto Cambio marcia Però l'episodio Termina qui Per oggi C'è stato Un bel po' da fare Abbiamo anche Usato finalmente La slot Kai E abbiamo altri 15 giri di slot Dovrei trovare Delle monete Allora Allora Ogni modo Io come sempre Vi ringrazio per aver seguito Il video In descrizione Trovate tutti quanti Il link utile E noi Ci vediamo Ovviamente Alla prossima Bye bye